Torino deve confermare l'affetto che da dieci anni garantisce ad una manifestazione che ha nel suo cuore la valorizzazione dello sport come farmaco a costo zero, come veicolo di inclusione sociale, come opportunità di valorizzare, rispettare e tenere insieme le maggiori differenze. È indispensabile esserci perché così Torino si pone in prima linea rispetto a valori che sono così importanti.